Porto di Livorno è stato firmato l'accordo che consentirà di realizzare il cosiddetto scavalco ferroviario, ovvero il collegamento diretto via binari fra il porto Labronico, l'interporto Vespucci di Guasticce e quindi l'intera rete ferroviaria europea, con enormi vantaggi logistici e commerciali. Il patto è stato siglato dal ministro delle infrastrutture con il presidente della regione toscana, l'amministratore delegato di rete ferroviaria italiana, il commissario straordinario del porto, il presidente dell'interporto. Lo scavalco ferroviario costerà complessivamente 27 milioni di euro, di cui 20 finanziati dalla regione toscana e comprende anche un tratto di binari lungo un chilometro e mezzo, di cui 360 metri su un viadotto a 15 campate, che sovrappasserà la linea ferroviaria Tirrenica-Pisa-Roma all'altezza della stazione di Livorno-Calambrone. L'accordo prevede altre tre opere ferroviarie finalizzate ad aumentare i traffici via merci su ferro, il collegamento ferroviario fra l'interporto e le linee Ecole-Salvetti-Vada e Pisa-Firenze, l'ampliamento di tutte le gallerie dell'Appenino-Tosco-Emiliano presenti sulla linea Prato-Bologna per rendere possibile il passaggio di carri merci più larghi, la revisione dei collegamenti ferroviari per il porto di Piombino con una proposta di allaccio ferroviario.